Un vero gladiatore, un vero dimostratore, hai trasmesso energia tutta la partita, i tuoi li hai portati e trascinati, cosa state provando? Complimenti! Allora, innanzitutto grazie, ma non solo io, tutta la squadra, io da capitano ho cercato di dare tutta la positività a questi ragazzi che dal 18 agosto si sbattono, si spaccano in sederino, passatemi questo francesismo oggi poi! E quindi sono strafelice, abbiamo lavorato tantissimo e noi abbiamo dato dimostrazione di una crescita esponenziale dal ripescaggio con Reggio Calabria, quindi complimenti a noi, complimenti a questa società e ci stiamo godendo questa cosa che per noi è un sogno divenuto realtà e nessuno ci dava per partecipanti in Pimis a questa competizione e per vittoriosi. E l'abbiamo dimostrato e adesso ci andiamo solo a godere questa grandissima vittoria e soddisfazione. Dopo quello che hai detto io, mi resta solo che farti tanti complimenti e dirvi di godervela tutta. Grazie mille! Dai!